Iniziata dall'idea di raccontare un po' di cose che ho visto e sperimentato recentemente e ho parlato con Seba qualche settimana fa dicendo guarda stavo pensando di portare un talk che si chiama Think Small e lui mi ha risposto via Telegram con questa ho detto ma no perca puttana speravo di fare una cosa originale so che small, small internet, small si usano tanto Think Small diceva vabbè ma l'avrà usato qualcuno, chi mai l'avrà usato? e in realtà ho detto cosa facciamo, lo cambiamo? no no va bene teniamolo, diventerà lo slogan di quest'anno e allora mi sono convinto che in realtà Think Small è diverso da Think Small paradizzato perché small con la O e poi perché ci sono tutta una serie di cose di cui ho piacere di parlare che sicuramente non sono assolutamente collegate a questo quindi è stata mancanza mia nel controllare che non ci fossero copyright su questa frase una breve presentazione io sono stato qua a ESC nel 2014 prima e nel 2004 prima quindi in realtà rispetto ad alcuni di voi sono venuto molte meno volte cioè sono venuto molto presto ma poi sono scomparso per un po' di anni nel 2000 quindi ormai 24 anni fa avevo fatto partire questo sito di reversing in realtà era una hacking challenge il cui nome e urla era 3564020356.org tutto perché prima dell'org era semplicemente un IP a 32 bit avevo preso l'indirizzo IP di un mio amico che mi aveva dato la macchina su cui mettere la roba l'ho convertito in un solo numero a 32 bit ha funzionato finché lui non aveva dovuto cambiare macchina e IP e quindi ho registrato il dominio è un sito che ha 24 anni c'è ancora non ha mai avuto pubblicità ha una password per entrare la dovete trovare voi per potervi registrare ci sono poco più di 20.000 utenti e negli anni non sono attivi adesso credo che attivi siano uno o due al mese probabilmente però è lì se lo dovete provare è divertente nel 2004 qui dietro avevo portato Power Browsing che era una serie di tecniche su come cercare in modo efficace cose su internet come accedere a contenuti su internet in modo custom portavo crawler che poi sono stati usati tanto soprattutto ultimamente si parla di LLM e di quanto i dati vengano ciucciati da qualsiasi fonte possibile immaginabile la mia idea era semplicemente cercate di guardare contenuti come volete voi nel senso che la macchina è la vostra come diceva mio nonno la bici è la tua sei tu che pedali e che la governi e la macchina la dovete poter governare e quindi i dati che vi arrivano li potete guardare con gli occhiali che volete il browser che voi usate è quello ai tempi era Internet Explorer quello di default su molti computer era quello, era dato tanti non facevano niente io mostravo come si potesse cambiare il modo di vedere le cose dal browser mettendo filtri, mettendo proxy facendo crawler, scraper eccetera nel 2000 beh, nel 2002 saltiamolo era un piccolo esperimento su tutto ebyte quello che vedete è in realtà Wincom cioè l'eseguibile di Windows stampato come GIF e nello spazio di padding ho messo un paio di scritte inclusa la firma Malagrit essendo parte che non viene eseguita funzionava anche io ho fatto girare questo Windows per qualche anno sul mio computer 2014 ho portato Movie ESC o Power Browsing 2.0 con un simpatico tool che ho scoperto funziona ancora a distanza di 10 anni e se notate un'interfaccia familiare è perché vi permette di accedere a Open Directories che gli fornite voi fa crawling fa indicizzazione dei fil che trova basandosi su lashing che viene fatto da Open Subtitles che è un algoritmo fichissimo per identificare esattamente quel file piratato per associarci ai sottotitoli giusti collega questo ID che trova all'ID di MDB scarica tutti i metadati e avete il vostro personalizzato motore di ricerca per i video avevo fatto anche un'estensione mi sembra per il browser per cui andate su IMDB cercate un film e se ce l'avete nel vostro indice pre-creato potete scaricarvi il film direttamente da IMDB e niente poi ho lasciato un po' perdere gli ESC mi sono dedicato un po' di più a quello che avevo studiato ormai già per un po' di anni che era Machine Learning Intelligenza Artificiale se la gente non si scandalizza che dica questo termine e credevo fosse un commento Intelligenza Artificiale scusa e niente 2016 ho fatto una specie di Shazam per i video che è andato bene dall'università è stata una collaborazione esterna è diventato proprio una specie di motore di ricerca per i video e lo cito perché era AI girava su un telefono inizialmente un telefono del 2000 ai tempi 15 quindi probabilmente adesso gira veramente con pochissime risorse non aveva un modello che usava miliardi di parametri quello più pesante su cui si è basato era un VGG16 quindi 16 milioni di parametri adesso probabilmente gira non solo su un telefono ma sicuramente su Raspberry Pi e 2019 mi sono occupato di fake news detection con i miei stessi colleghi tra l'altro che avevano fatto il lavoro prima abbiamo fatto partire una start-up Twitter ci ha comprati e sono finito e questa è una delle cose che magari non sono contento di condividere non è durata tantissimo come potrete immaginare simultaneamente a questo episodio voi direte un po' come è successo a tanti c'è stata una Twitter migration la nostra è stata proprio una migration fisica perché metà dei dipendenti sono stati licenziati in tronco per fortuna in Europa le leggi sono un po' diverse non ci hanno potuti mandare a casa ma c'è stato un lungo processo di ridondanza che è durato da novembre a febbraio nel frattempo la gente cercava altri social network la vera verità è che sei mesi prima io avevo cominciato a cercare un altro social network ero uno di quelle persone di quel picco molto piccolo che dopo già qualche anno a Twitter dove avevo visto che le cose non andavano come speravo nel senso che c'era meno interesse di quanto pensassi in fake news detection interesse che poi è scomparso quando è arrivato Elon Musk c'era stavano scomparendo un po' di cose tipo all'inizio praticamente c'era un debolissimo algoritmo per la timeline che è diventato molto meno debole c'era un'opzione di timeline esclusivamente cronologica che poi hanno cominciato a disattivare in automatico se non ogni volta ridire no no guarda che io ti ho detto che voglio quella cronologica c'erano delle API fantastiche per cui tanti potevano costruire applicazioni su Reddit su Twitter anche su Reddit e anche lì hanno fatto dei casini con le API insomma tante cose sono scomparse o subito prima o subito dopo che arrivasse Elon e quindi intanto non mi ritrovavo più in quel social network e poi avevo intenzione di ritrovare un po' lo spirito iniziale che avevo trovato quando inizialmente cercavo cose su internet seguivo comunità seguivo gruppi diversi e come sapete quando una porta si apre siete stati alleschi in passato molti di voi se ne apre un'altra in un modo o nell'altro quello che cercavo realmente era una comunità di pratica mi è ritornato un po' questo tema che era una cosa che avevo studiato durante il mio dottorato di ricerca e la definizione di Etienne e sua moglie Beverly Wenger Trainer era una comunità di pratica un gruppo di persone che condivide o una una problematica una passione per qualcosa che fanno e imparano a farla meglio interagendo regolarmente questo regolarmente non ha una frequenza prefissata si potrebbe anche dire che la comunità ESC è una comunità di pratica tante comunità di cui ho fatto parte sono comunità di pratica e non so voi ma non ho trovato un social network in cui trovassi una comunità di pratica in cui identificarmi magari piccole sottoparti ma mai niente che fosse completamente soddisfacente anzi più passava il tempo e più mi sembrava di essere dentro a uno di quegli everything nothing siti dove si vede tutto e niente un sacco di informazioni diverse ma niente che veramente fosse coesivo per me poi magari avevo personalizzato male i miei fidi o quant'altro ma non avevo neanche tanto tempo o tanta voglia di spenderci altro tempo ecco partendo da queste considerazioni ho deciso va bene piglio comincio a frequentare altre cose che cosa sono partito dal Fediverso e ho trovato altre comunità che si occupavano di vecchi protocolli ho cominciato a informarmi di più quali fossero i valori di queste comunità ho cominciato a fare alcuni progetti e ho cercato di dividere più o meno il talk di oggi in tre pillar diciamo uno è le tecnologie di small internet che forse tanti conoscono già non lo so uno è un progetto mio personale che si chiama Pico Goffer e un'altra parte visto che tutti quest'anno ne parlano AI che riguarda un po' anche il mio lavoro attuale lo dico subito anche quello giusto perché non sembra sembri che faccia pubblicità nascosta adesso lavoro per Mozilla e AI sono quelle che di solito la gente odia perché dicono adesso fate AI e non fate più un browser noi volevamo il browser non abbiamo mai voluto l'AI è un po' diversa la situazione poi se volete ve ne parlo molto volentieri e qualcuno conosce già tecnologie di small internet tipo non so Goffer Gemini grandi lo sapevo già però molti di voi sicuramente conoscono RSS e tantissimi di voi ho sentito in questi tre giorni mi hanno detto ah io ormai non seguo più le news sui social media ormai sono tornato RSS per leggere delle cose che siano un po' più affidabili e qualcuno di voi conosce Pico Goffer ok grande grandioso ecco non mi aspettavo che nessuno lo conoscesse in realtà non l'ho mai pubblicizzato particolarmente è stato un pet project qualcosa che ho fatto tra novembre e 22 febbraio 2023 più o meno mi ha tenuto occupato mi è piaciuto e appunto era una cosa che avevo piacere di condividere e non chiedo chi conosce AI perché immagino che più o meno qualcuno ne abbia già sentito parlare ultimamente allora questo James Tomasino è un personaggio che in realtà ho conosciuto di persona purtroppo ci ho parlato un po' via Mastodon e l'ho conosciuto come personaggio diciamo seguendo un suo sito su Gemini e ha fatto un talk che a me è piaciuto tantissimo a Make Contain Hackers l'anno scorso a luglio soccrosso ok top e niente James Tomasino ha fatto un talk splendido in cui è anche andato molto più nei dettagli su Goffer e Gemini e altre tecnologie dello small internet quindi questo pdf è un link questo pdf è un casino di link intanto vi do il compito a casa praticamente nel senso che da qui al prossimo ESC in qualsiasi momento decidiate di organizzare un prossimo ESC avrete materiale da leggere però ho voluto prendere almeno un paio di slide da questo talk uno sulle motivazioni che portavano una serie di persone che erano state intervistate contattate prima su Mastodon e poi intervistate motivazioni che le portavano a frequentare vari ambienti sotto ambienti di questa small internet e quali principali la gente cioè le persone con cui socializzare la semplicità minimalismo internet vabbè Goffer tra le altre cose è stato nominato molto surveillance capitalism quindi penso non per quello ma per evitare quello tanti ad esempio amano il fatto di poter vedere cose senza dover dare i propri dati in giro che è una cosa che ultimamente non succede tanto frequentemente e insomma questi sono alcuni dei principi principali e quando gli è stato chiesto di definire cos'è small internet hanno cominciato a tirar fuori un po' di protocolli di tecnologie quindi chat private Gemini Small Web da qualche parte forse ci sono anche Web Ring Mastodon Fediverso BBS IRC tante cose che a me in quanto vecchio si può dire ovviamente risuonavano particolarmente allora ho cominciato a guardarmi un po' attorno e cercare di capire cosa ci fosse che potevo aver voglia di ricominciare a frequentare e che cosa c'era ancora ad esempio Pubmixis sono sistemi Unix pubblici uno di questi ad esempio è sdf.org vi potete registrare gratuitamente avete un account guest per un po' di tempo con offerta più che simbolica potete avere un account anche per tutta la vita è già su da credo gli anni 90 quindi diciamo è abbastanza stabile come sito non è uno di quelli che vanno e vengono c'è una specie di collettivo dietro vi dà un sacco di servizi ma tutto questo avrei dovuto dirlo nel slide dopo in realtà questa spero abbiate avuto il tempo almeno di leggio chiaro nel frattempo una frase che ho trovato da un paper di Dennis Ritchie The Evolution of the Unix Time Sharing System e mi è piaciuta molto per cui va bene cerco di leggere il lavoro in italiano che è quanto noi volevamo preservare non era esclusivamente un buon ambiente all'interno del quale fare fare programmazione scusate programmare ma un sistema attorno al quale si potesse formare un gruppo sapevamo per la nostra esperienza che l'essenza del communal computing fornita da queste macchine ad accesso remoto a tempo condiviso non è solo scrivere programmi all'interno di un terminale anziché a una scheda perforata ma anche per incoraggiare la comunicazione fra le persone all'interno di questi sistemi e un'altra volta mi sono molto identificato in questa cosa l'ho citato anche all'interno di un documento al lavoro dicendo ragazzi siamo qua a fare delle cose ma le vogliamo fare anche per provare un punto rispetto a alcune cose che stiamo facendo tornando a SDF è effettivamente un mondo così cioè io sono ritornato in una comunità in cui mi identificavo forse avevo solo bisogno di un gruppo molto ristretto di nerd e c'è una bulletin board c'è una chat hanno un'istanza di Mastodon un server di Minecraft una radio in cui è possibile allocare dello spazio se volete fare voi dei vostri programmi radio da poi far ascoltare alla gente naturalmente fra le varie cose fa anche hosting web gopher e gemini cominciando a leggere gopher e gemini o diciamo siti gopher e gemini da SDF ho cominciato un po' ad appassionarmi anche a questa tecnologia gopher che cos'è avete già sentito un po' di volte sono contento che la maggior parte di voi non lo conosco o non lo usi magari l'ha già sentito è un protocollo stravecchio del 1993 addirittura all'inizio si pensava potesse essere un competitor di HTTP come protocollo come protocollo va bene lo sai dico vecchio però ho 50 anni praticamente quindi sono più vecchio di questo protocollo comunque e si basa comunque anche questo su TCP e sfrutta praticamente un sistema molto semplice di gestione dei documenti l'idea è io organizzo i miei siti i miei repository come dei menu che indicizzano dei contenuti che sono prevalentemente testuali questi menu vengono chiamati gopher map e hanno una serie di identificatori vediamo se riesco a zoomare sì perfetto degli identificatori che esatto esatto ho solo pensato di toccare il muro e guarda che cosa è successo e praticamente ogni riga di una gopher map inizia con un numero che dice in anticipo che cosa seguirà all'interno di quella riga può essere un puntatore un file di test ad esempio una directory un file u encodato un file binario generale oppure può essere una riga di testo normale questo i informational message e così via un esempio ad esempio è questo qua questo è il sorgente diciamo della mia pagina principale e è praticamente testo sono delle colonne divise da tab la prima colonna inizia sempre con questo identificatore seguito poi da diciamo il nome del link poi un tab l'effettiva posizione di questo link in questo caso ad esempio Joshua è una stringa di testo che punta alla cartella Joshua e poi c'è semplicemente l'url e la porta e basta questo si ripete in tutte le righe del contenuto come si può vedere questa cosa ci sono diversi client uno di questi si chiama bombadillo o bombadillo avevo preparato anche un bella cinema per farvelo vedere al volo in realtà c'è lo sul computer però almeno così non devo digitare con una mano sola lo potete navigare testualmente links supporta anche gopher firefox non supporta più gopher più perché lo supportava mi sono molto incazzato e la prima volta che ho incontrato Mark Sermann che ha detto ah benvenuti a Mozilla AI sapete chiedetemi qualsiasi cosa mi ha detto perché avete tolto il supporto a gopher da firefox e la risposta spero di poterla dire registrata ma tanto è cifrata in italiano è non lo so in realtà probabilmente era semplicemente un discorso di allocazione di risorse su un protocollo che la gente non usava più ci può stare per fortuna esistono dei progetti small uno dei quali si chiama dovrei avercelo aperto qua la grunge che è un browser fichissimo e vediamo se riesco 3 5 6 certo il font è un po' piccolo perché di solito non lavoro a questa risoluzione però se tutto va bene sono collegato alla wifi giusta ah no sono collegato alla wifi di una cosa di cui volevo parlare dopo adesso mi collego alla mia adesso però dovresti funzionare ok e questo è il mio sito gopher se aggiungete uno 0 alla fine dell'urla vedete il sorgente che è quello che vi ho mostrato prima altrimenti ve lo navigate così ci sono dei file di testo il primo qua è Joshua che è una citazione se qualcuno ricorda la password Joshua esatto bravissimo e ho anche un piccolo cameo siccome è tutto testo vediamo ok qua era qua forse sì siccome è tutto testo e siccome è un protocollo super semplice io posso usare semplicemente netcat ad esempio collegarmi dirgli voglio slash la pagina principale e lui mi dà la pagina principale posso collegarmi aiuto collegarmi dire voglio slash Joshua io ho esattamente il file di testo Joshua che io avevo scritto e che avete visto nel browser di là è tutto testo quindi io posso fare anche una cosa tipo questa che è scrivi Joshua mandalo a netcat e poi pipe a tutto quanto a e-speak adesso alzo un po' il volume e vediamo con un semplice one liner ho ricostruito una scena di un film degli anni 80 war games se qualcuno di voi non l'ha visto ve lo consiglio ma spero che l'abbiate visto in tanti in realtà war games è stato per me una cartina sottornasole del fatto che stavo invecchiando perché anni fa avevo appena iniziato il dottorato il mio professore di machine learning Matteo Matteucci che saluto su twitch mi aveva invitato a fare un pezzo di una lezione del corso di intelligenza artificiale o machine learning non mi ricordo come lo chiamavano ai tempi in cui mostravo un progettino che avevo fatto per passare l'esame l'anno precedente sui algoritmi genetici e una cosa che avevo fatto era stata prendere un programma oddio non mi ricordo qual era da craccare e indovinavo il seriale usando un algoritmo genetico in realtà era un'applicazione un po' strana perché in teoria se non c'è effettivamente una relazione fra parti della stringa che tu produci o della password che tu produci non c'è modo di evolverti con un algoritmo genetico per arrivare alla destinazione giusta però quell'algoritmo lì in particolare funzionava perché era fatto male era stupidissimo e quindi facevo vedere a sti studenti come l'algoritmo genetico mostrava l'evolversi di queste lette non era brute force era proprio un'evoluzione dell'algoritmo per trovare la password con cui craccare un programma ero stato autorizzato a spiegare questa cosa in università erano altri tempi e agli studenti ho detto beh vedete è come il WAP è come quando in Wargames cercano di trovare la password per il WAP e questi mi guardavano come la mucca guarda il treno e ho detto non avete presente Wargames? no non sapete cos'è il WAP? no quanti anni avete? è un field del 1984 noi siamo nati dopo e quindi a quel punto lì mi sono reso conto che va bene guarda non lo so what does it look like? che aspetto ha? questa è un'immagine che ho fatto recentemente c'è stata una delle cose carine che ho visto su Mastodon era questa old computer challenge in cui per una settimana tu ti proponi di usare vecchie tecnologie io purtroppo tanta roba vecchia ce l'ho a casa in Italia adesso vivo a Londra e ero tornato ho fatto una settimana via l'ultima notte prima di prendere l'aereo ero a casa nella mia casa dove c'era il mio vecchio hardware ho recuperato il mio vecchio laptop del 2003 2002 e incredibilmente funzionava ancora anche se lo schermo come potete vedere qui era orrendamente rovinato io ho messo dentro una Knopix live CD non so se ve la ricordate alcuni di voi e sono riuscito a farlo andare sul vecchio Mozilla che supportava ancora Goffer ai tempi questa la faccio vedere a Mark Sermann la prossima volta che lo vedo e sono riuscito a vedere Goffer con Lynx a vedere la versione HTTP di un sito che poi si chiama Pico Goffer e poi ve lo spiegherò col browser normale e vedere Goffer anche con Mozilla in più avete editor di te browser testuale avete Lagrange che è fantastico e perché andare a vedere City Goffer c'è gente che ci scrive succedono cose allora la cosa interessante è che dal 2018 il Goffer Space è cresciuto cioè prima c'erano meno di 150 server nel 2020 si era saliti a quasi 400 server mi piacerebbe poter dire che è stato merito del covid ma in realtà questa statistica è stata presa a gennaio 2020 quindi questo invece è stato dopo il covid e adesso il numero è leggermente più basso del 2022 probabilmente c'è stato un burst ai tempi adesso ci sono 312 server unici quindi è abbastanza vicino ai dati del 2022 e 5 milioni di pagine differenti che comunque non è male cioè c'è un po' di roba da vedere goffer un po' di limiti vabbè è un protocollo del 93 ma non solo per quello è anche perché è un protocollo che non è mai stato progettato per non essere un po' cambiato un po' espanso quindi ci sono un sacco di varianti non ufficiali anche di come viene utilizzato c'è gente che usa le goffer map come se fossero delle pagine html praticamente quindi ogni volta che vuole creare una pagina nuova crea una goffer map ci inserisce un sacco di link e quant'altro fa un ipertesto vero e proprio e però snatura un po' diciamo il senso di questa cosa rendendo un po' più difficile fruire di questo goffer in modo esclusivamente testuale cioè condividendo esclusivamente file di testo altre cose sono che è un protocollo che fa girare tutto in chiaro anche http negli anni si è spostato forse nel mio sito e non dico che è ancora http e non https perché l'ho un po' frizzato e quindi non ci sono più stato dietro però è molto difficile adesso trovare uno sito web che non usi cifratura altre cose la gente non si è mai messa d'accordo su quante colonne scrivere il testo e voi direte ma si è discusso parecchio tempo fa 78 colonne che domande e poi però si sono allargati gli schermi e lui dice però perché devo vederla solo a 78 colonne poi sono arrivati i telefonini ad esempio la grange funziona anche su iphone o su android e tu dici ma io voglio vedere sul telefonino un testo che è stato impaginato a 78 colonne come faccio adesso e sembrano delle cagate però in realtà c'è gente che ci ha pensato seriamente e ha creato un nuovo protocollo nel 2019 Gemini non è ancora ufficiale nel senso non è ancora stato mandato agli etf però è un protocollo ci hanno lavorato hanno messo TLS fanno soft wrapping by default quindi c'è la capa automatica non c'è bisogno di pensare esplicitamente a quante colonne bisogna usare il mime type è specificato nel header dei documenti che sono mandati quindi supporta tante altre cose immagini in linea ha un formato tipo markdown per il testo quindi c'è un minimo di organizzazione delle pagine e ha una specifica filosofica cioè che prende una posizione da subito dicendo vogliamo evitare che venga esteso per poter fare altre cose non vogliamo permettere a nessuno di metterci dei javascript o l'equivalente di un javascript o l'altro deve essere frizzato in modo da focalizzarsi solo sui contenuti e in quanto dimensioni è un po' più piccolo ci sono 3900 server cioè i server sono di più ma le pagine sono un po' di meno forse non lo so è solo una mia ipotesi perché essendo più nuovo come protocollo ci sono più documenti e cose nuove che la gente produce e non dei grandi dump di vecchi repository di testi che invece si trovano ancora molto facilmente su goffer c'erano altre cose prima di permacomputing no ok permacomputing cosa c'entra? un cazzo non è un protocollo prima di tutto allora è un approccio tipo quello della permaculture però applicato al computing cioè l'idea è ci sono una serie di principi a cui possiamo ispirarci che riguardano il computing e che un po' si ispirano alla permaculture per creare software insieme in un modo sostenibile in un modo condiviso in un modo aperto e così via c'è un documento molto bello che è quello linkato in questa slide non ve lo farò vedere adesso ma ci sono tutta una serie di principi ne citerò alcuni solo perché sono quelli appunto che risuonano maggiormente con me però è bello da leggere quindi altro compito a casa per voi care for life and for the chips in generale quando scrivete un software nuovo pensate alle persone che lo useranno non sono utenti sono persone i chip si possono riusare non c'è bisogno di buttarli appena non funzionano più cioè non funzionano più appena il software non ci gira più perché è troppo potente ci si potrebbe investire un po' di più sul software in modo che si riesca a usarlo per più tempo keep it small simple flexible c'è un build on a solid ground che mi piace molto alcune cose le ho sentite da voi in questi giorni tipo i videogiochi di una certa età ormai anche loro ormai non sono più giocabili non esistono più le console su cui giocarli non si trovano costano tantissimo oppure i sistemi operativi su cui giravano alcune cose che si appoggiano a framework o a linguaggi che non sono più manutenuti non sono più utilizzabili come è possibile costruire cose che rimangano nel tempo e non vengano semplicemente buttate via dopo un po' amplify awareness qualcosa che sto cercando di fare in questo momento spero di farlo decentemente expose everything risuono un sacco con la filosofia open source e la condivisione di quello che si fa e anche delle intenzioni di fare certe cose secondo me rispondere a cambiamenti e ogni cosa ha un posto fra allora prima di tutto perché sono finito qua perché andando a vedere queste piccole comunità questi piccoli vlog che sono i blog su gopher o le capsule gemini ho trovato veramente un sacco di comunità molto più affini alle cose che a me interessavano e sarà anche questa una bolla in un certo senso ma almeno una bolla che mi sono certo scelto io e una bolla che magari comunque conteneva cose che non conoscevo precedentemente che è anche il motivo per cui mi preme condividere con qualcuno perché penso magari potrebbero interessare anche a voi questo lavorare con cose piccole trova il suo totale compimento nell'approccio del computing with limits c'è addirittura un workshop a cui vengono mandati paper annualmente che si concentra si focalizza su computing con limiti di ogni genere che possono essere prediligere offline oppure alimentare solo energia solare oppure ridurre le dipendenze software per avere un software più agile più lean oppure ridurre il costo computazionale degli algoritmi e così via un esempio è questo low tech magazine che tra l'altro ha un articolo pubblicato in una delle edizioni del workshop adesso non so se in questo momento low tech magazine fatemi vedere non ce l'ho caricato però la pagina in realtà cambia nel tempo perché oh sì bellissimo lo vedete che è metà bianca e metà gialla allora il giallo vi sta dicendo la quantità di batteria che il server di questo sito che ha alimentato energia solare ha in questo momento cioè quando questo va sotto lo 0% magari sotto il 5% si spegne questo server e voi non lo potete vedere però magari il giorno dopo torna su perché gli arriva un po' di sole e a me piace tantissimo questa filosofia perché chi dice che un server debba essere online tutto il tempo diciamo a patto che possa tornare su in un altro momento perché se si spegne poi non si riaccende più insomma non è l'ideale però è molto bella come cosa notate che le immagini non sono immagini colorate sono tutte con dithering perché sono più economiche vi fanno scaricare meno dati credo che ci sia anche la possibilità di scegliere in questa ultima versione ma non mi ricordo ah vedete qua dice this is a solar power website which means it sometimes goes offline e da qualche parte c'è anche un pulsante dove potete cliccare per vedere le immagini in un altro formato però l'idea è proprio consumare meno energia possibile è un'attenzione alle cose che non si vede da tutte le parti e quindi mi ha molto molto toccato come cosa local first vi dicevo magari si può fare delle cose che girano un po' di più offline local first software è un manifesto tutto dedicato a local first che è molto interessante 2 è un progetto questo yesterday che avevo fatto quando ero all'università non so ah dovrei avercelo aperto qua da qualche parte fatemi vedere credo di avere qui l'idea era fare un crawler che potesse scaricare i forum ai tempi andavano un sacco queste board phpbb un sacco di forum web e la mia idea era ma io non posso scaricarli tutti quanti vabbè poi vedete un po' quelli che mi interessavano ai tempi non posso scaricarli tutti cacciare tutti i dati in un db fare una ricerca unica per tutti anche se arrivano da siti diversi mostrarli con un'interfaccia essenziale che posso visitare anche con links se mi serve avevo fatto un adattatore che leggeva dal database e mi dava i messaggi nuovi me li serviva via pop 3 per cui alla fine dal mio client di posta io potevo scaricare i nuovi messaggi del forum ad esempio era solo un giocare con i protocolli e con crawling ai tempi era un po' una cosa di cui mi ero scimmiato proprio era più prendere una posizione cioè questi dati sono miei arrivano da un'altra parte però una volta che io li prendo vorrei poterli trattare come voglio e usare nel modo che mi è più comodo e 2 era un acronimo The Working Offline Forum Reader T.W.O. e ne ho fatto un altro dopo che era Another Non Working Offline Forum Reader l'acronimo era ANO non è stato di successo come questo diciamo però questo intanto mi era servito a passare un esame allora oggi c'è un nuovo progetto che si chiama Off Punk di questo personaggio Plume oddio dovrei avercelo aperto di questo personaggio Plume che ha fatto un esperimento interessante nel 2022 ha detto io voglio stare un anno offline e per fare questa cosa non voglio dire probabilmente non ce l'ho qui direttamente Off Punk e Offline First vabbè vi faccio vedere questo lui ha creato questo browser Offline First che gli permette di aggiungere una lista di URL di cosa che vuole seguire e poi ha praticamente un crawler che ogni giorno controlla se ci sono aggiornamenti su questi siti siti è molto generico possono essere pagine web e vede se sono cambiate nel tempo feed rss capsule gemini siti gemini o siti goffer lui si è iscritto a una serie di siti ogni tanto ne aggiunge qualcuno quando vede cose che gli interessano anziché cliccare su link esterni dice questo lo metto in coda me lo leggo domani è stato un anno offline che non significa costantemente offline ma scaricando le cose che voleva leggere alla mattina presto leggendosene nel corso della giornata e racconta nel suo blog questa esperienza che poi sia un'esperienza positiva o meno per tutti ovviamente è discutibile però mi era parecchio interessata il motivo per cui ve la condivido oggi credo di essere all'ultima slide relativa alla parte di small internet questo non c'entro tanto con internet ma secondo me piacerà a quelli che hanno parlato di videogiochi e preservazione di videogiochi UXN è una macchina virtuale che è stata creata da uno sviluppatore di videogiochi che si è reso conto che i giochi faceva per iOS dopo qualche versione di iOS non gli funzionavano più cioè non venivano più supportati dalle versioni più recenti e lui diceva io faccio questi giochi non per essere pagato per guadagnare dei soldi li faccio perché voglio che la gente giochi con i miei giochi e questi durano pochi anni e fra dieci anni nessuno si ricorderà più di questi giochi non è il modo in cui io voglio farli cioè non è la ragione per cui voglio farli e allora ha detto ok ci sono gli emulatori ci sono giochi degli anni 80 si possono giocare ancora adesso figata qualcuno emulerà mai il sistema su cui gireranno i miei giochi forse sì quanto è semplice fare un emulatore boh allora si è messo a studiare a guardare un po' e ha detto ma perché fare un emulatore di qualcosa di specifico quando posso fare una macchina virtuale che invento io che sia così semplice con così pochi operatori e così ridotta diciamo limitata 64 kb di memoria due stack di 256 byte opcode di 5 bit e così via così semplice che io posso scrivere il codice per emularla in un weekend e ci ha lavorato tanto in realtà più di un weekend per creare la parte teorica diciamo il modello di questa macchina virtuale e dopo però è riuscito a scrivere il codice facilmente ha detto la prima volta ci ho messo un po' più di un weekend ma se adesso dovessi riscriverlo potrei mi basta avere stampato su carta la lista di questi opcode e io posso riprogrammarmi questa cosa fra 20 anni 30 anni su un computer nuovo e l'idea mi è piaciuta moltissimo c'è un talk che secondo me è formidabile lui e il suo partner la sua partner vivono su una barca e quindi hanno tutta una serie di limiti che sono in un certo senso autoimposti perché hanno deciso loro di venire su una barca però allo stesso tempo magari non avevano deciso in anticipo di avere tutti quei limiti e ci sono veramente un sacco di di note interessanti e il talk ve lo straconsiglio visto che siamo a un terzo più o meno della presentazione è già passato un sacco di tempo tipo tre quarti del tempo effettivo ma posso andare più veloce su alcune parti volevo fermarmi un secondo e sentire se c'è qualche domanda da voi su questo perché non siamo obbligati a farlo tutto e so che è quasi mezzanotte e l'ultima volta ci ha messo un'ora e mezza anziché un'ora quindi ditemi voi intanto avete domande specifiche su questo? vai ah scusa microfono la mia domanda mi sembra a parte il fatto che mi piace un sacco il concept ma c'è stato un po' un ritorno un legame a questa roba anche con tutta la faccenda del off-grid un po' anche durante il covid ma in generale c'è questa idea dell'off-grid side networks perché per esempio c'è un po' di progetti che sono usciti come che so knowledge base offline che ti porti dietro in case of apocalypse però in generale c'è reti più diciamo reti offline side networks rispetto alla internet qualcuno si è anche inventato adesso c'è questa roba tra lore e mashtastic altri protocolli che sono usciti tipo a red questa idea di fare delle reti anche negli Stati Uniti per esempio ci sono dei gruppi che hanno messo queste reti dove cambiano dati in modo da ok nel caso andasse giù internet possiamo comunque continuare a comunicare eccetera c'è una connessione c'è una connessione sì cioè in realtà ti sei già risposto nel senso sì c'è stato un sacco di di movimento su queste cose ed è molto interessante ad esempio una cosa che mi ha interessato un sacco è quest'altro protocollo si chiama Scuttlebut che è stato progettato per con l'idea di social network distribuiti che potessero lavorare con un ibrido offline online e la possibilità di sincronizzare dati da varie fonti da vari hub anche senza essere necessariamente collegati tutto il tempo credo che sia stato frizzato come progetto a favore di Nostr e lo sviluppatore mi sembra che sia lo stesso ci sono delle presentazioni molto interessanti fatte da lui e un altro protocollo che sto seguendo molto è no non sto seguendo molto sto seguendo con molto interesse ma lo sto seguendo poco per motivi di tempo è NNCP che è proprio offline first come idea cioè l'idea è che tu ti potresti recuperare dei dati anche da un pendrive ogni tanto e su quello si possono creare altre applicazioni e c'è un progetto interessante credo di averlo beccato su Gemini l'avevo lasciato aperto qua tra l'altro che è questa offline BBS che tra l'altro usa le stesse tecnologie di BBS che usavamo ai tempi delle BBS tipo Blue Wave i pacchetti in formato Blue Wave esatto e usa esattamente quelle cose per fare adesso una BBS che si basa su questo protocollo devo assolutamente provarla ci sono le istruzioni online per farlo c'è anche in generale su NNCP ma queste sono proprio le cose che devi fare per configurare NNCP per scambiarti i pacchetti con questo qui che è un signore che ha fatto una BBS come negli anni 90 con le stesse tecnologie e lo devo provare assolutamente altre cose su dati offline e come condividerli è molto collegato alla prossima parte tra l'altro quindi sì come follow up perché è un altro dei topi che a me personalmente sta iniziando a interessare sempre di più e che sento anche altra gente che ne parla è il problema del what if a un certo punto le grosse piattaforme decidono che non hanno più hosting o che non gli conviene più mantenere la piattaforma tutti i dati che e ci sono casi di vecchi forum che erano un po' delle staple dell'internet che sono stati chiusi e qualcuno adesso ci sono quelli che fanno data hoarding che si fanno i mirror si parlano tra di loro e dicono hai la copia di questo però le cose in un certo senso mi sembrano collegate sono molto collegate sì io sono tantissimo a favore della preservazione sono strapentito di aver fatto mirror di tutti quei forum di cui avevo fatto parte del mirror ai tempi e ho quando ho fatto quella cosa della Knopix quindi un paio di mesi fa ho ripescato la mia pila di vecchi cd e dvd e c'è della roba che ho detto cazzo io questa roba la devo mettere su internet cioè devo condividerla da qualche parte perché tanta magari è documentazione materiale di robe degli anni 90 che non serviranno a nessuno ma tante roba che era valida ai tempi e sarà valida sempre e adesso non si trova su internet quindi sì cioè tutto quello che è archive.org o anche approcci personali al preservare informazioni secondo me ha un valore inestimabile e non perché dall'oggi al domani potrebbero scomprere tutti quanti ma perché nel corso degli anni ci stiamo desensibilizzando a questa cosa affidandoci a servizi che ci danno queste cose disponibili tutti i giorni io sto facendo fatica a spiegare a mio figlio che non ha bisogno di Spotify per sentire della musica poi vabbè sono padre del genere ma perché non ti scarichi l'MP3 di questa cosa però cioè glielo dico un po' diverso però gli dico scusa ma se spengono Spotify tu poi non hai più musica perché dobbiamo affidarci a dei servizi quando io ancora insieme a quelle pile di CD dei CD di MP3 ma non avevo bisogno di 700 CD di MP3 me ne bastavano uno o due con le robe che mi piacevano di più che poi è quello che senti su Spotify sono d'accordo sullo scoprire cose nuove per carità ho scoperto cose nuove belle su Spotify però le mie playlist su Spotify che sono quelle che sento così spesso potrei benissimo avercele ma ci stanno anche sul mio telefono dirette e me le sentirei con VLC senza bisogno di essere collegato tutto il tempo tanto più che se poi ti scarichi le robe su un dispositivo e su un altro tipo i video su Netflix più di due dispositivi non puoi ti chiedono di pagare di più e dici sto già pagando il servizio vorrei poterlo usare offline o un volo più tardi non posso perché che so la mia compagna si è scaricata qualcos'altro allo stesso tempo e altri casi vecchi film anni 80 ci siamo trasferiti in Inghilterra abbiamo scoperto ci sono dei film formidabili che non conoscevamo perché vivevamo in Italia dei film di culto cult movies e li cerchi su qualsiasi piattaforma non li trovi oppure li trovi in vendita un film degli anni 80 a 20 euro in streaming quindi diciamo nel caso in cui sia in vendita uno può anche spendere questi 20 euro non promuovo la pirateria però altrimenti ben venga che ci sia su torrent perché se no non c'è modo di vederlo più quel film degli anni 80 questa è una mia posizione personale poi sei d'accordo grazie ok sì a proposito di Gemini e a proposito anche di un di un problema che arriva con un sacco di dati c'è un modo per ricercare c'è un motore di ricerca un inventory sì ci sono motori di ricerca per Goffer c'è Veronica e per Gemini non mi ricordo come si chiama ma mi sembra ci sia un motore di ricerca anche lì ed è disponibile su Gemini sì è disponibile su Gemini purtroppo allora c'è anche questo fatto che la Grange è un client Gemini e Goffer allo stesso tempo io avevo iniziato tantissimo a scimiarmi di Goffer poi ho scoperto anche Gemini un po' grazie alla Grange e adesso non so più che si ti sto guardando al 99% c'è adesso non vorrei dirti una cazzata però mi sembra mi sembrerebbe incredibile ci sono intanto c'è la possibilità di far girare diciamo CGI o codice dinamico sia su Goffer che su Gemini ah una cosa che non vi ho fatto vedere di Goffer ad esempio è questa e Goffer Bay e in realtà non è su Goffer nel senso che utilizza semplicemente l'API di Pirate Bay che è carino perché quella c'è nel senso i siti vari li ammazzano uno dopo l'altro però l'API è più o meno sempre irraggiungibile e questo è un software che è condiviso tra l'altro dovrei avere aperto il tab da questo utente Parazzi non so se lo conoscete io non lo conosco di persona ma è uno che ha lavorato tipo a Dine Dave One è un personaggio questo è solo Readme MD e niente questo software praticamente sono dei file Python che sono semplicissimi in realtà ce n'è uno che gli altri sono tutti semplicemente credo sia questo Q di CGI è un file Python che si collega all'API in base alle ricerche che fate lui manda le robe all'API giuste è un middleware fondamentalmente e la parola middleware verrà rituizzata in futuro insieme a quella di adversarial interoperability quindi teneteve la mente e ve la ritroverete più tardi ok motore di ricerca ah picco goffer cos'è è un progetto che ho fatto io da cosa deriva da tutte le cose che vi ho detto finora cioè ci sono una serie di principi che mi sono piaciuti molto e ho detto ma io posso fare qualcosa o forse non ci ho pensato e adesso ve la dico così perché a posteriore è sempre più semplice trovare una una motivazione perché si è fatte le cose forse avevo solo voglia di riempirmi un po' di tempo appunto durante il periodo Elon cos'è allora prima vi faccio vedere la foto e poi questo a sinistra è picco goffer è un raspberry pi picco ma in realtà un RP2040 con wifi dovrebbe funzionare comunque è programmato in micro python e utilizza protocolli semplici il nome picco goffer dovrebbe puntare abbastanza a questo perché sono partito da goffer perché uno può scrivere un server goffer in una manciata di righe di codice e allora ho detto manciata di righe di codice cerco sorgenti già esistenti in python provo a portarli in micro python riesco a fare un semplice server goffer che giri su un patacchino di queste dimensioni la risposta è sì tra l'altro Davide ne è in mano uno ce ne sono tre aperti in questo momento se andate a vedere le vostre la wifi dovreste trovare delle wifi aperte senza password c'è un join me join me 2 join me 3 uno dei primi commenti che ho avuto quando ho parlato di queste cose su su mastodon ai tempi ancora su twitter forse perché questo era prima che arrivasse ilon poi ho fatto una ilon edition dove al posto del tipo che fa così c'è il tipo che fa così l'ho chiamata ilon edition e l'ho messa online su github allora quando vi collegate a questa wifi questi sono degli access point siete nella wifi del picco gopher cioè di uno di quegli aggegini lì se vi collegate all'indirizzo ep 192 168 4 1 quello è l'indirizzo del server vi potete collegare con un browser normale perché ho messo anche un server http molto semplice che in realtà prende le mie pagine gopher le converte in http tanto sono file di test e ve le mostra da browser se avete già incredibilmente installato la grange o sul vostro telefono sul portatile potete collegarvi via gopher c'è un limite che il raspberry pi pico riesce a indirizzare al massimo 4 device che si collegano al proprio access point quindi in realtà non so come funzionerà se lo fate tutti contemporaneamente potrebbe essere un bel esperimento qual è la cosa carina di questo aggeggio a parte che è facile appunto è l'equivalente del progetto di un weekend l'ho spezzato in un po' di task e ho fatto una serie di post ovviamente su gopher che dovrebbero essere qua in questa sezione picco gopher dovrei anche poterlo zoomare ma non mi ricordo come si fa questi sono i post dall'introduzione in cui dico voglia di fare questi passi e poi pian piano ho cominciato a marcarli non so quanti di voi usano Gira questo ha funzionato molto meglio di Gira per decidere i task da fare nei passi successivi e tra le varie cose è low power usa veramente poco poca corrente al punto che di quelle di quei tre dispositivi uno è alimentato da tre batterie è quello più economico perché basta avere una piccola enclosure che costa un euro tipo per queste tre batterie attacchi direttamente ai due pin di alimentazione del pico e va altre due versioni hanno un adattatore per poter collegare una batteria di quelle lipo ricaricabili ho fatto degli esperimenti anche con dei pannelli solari tipo questi e con risultati contrastanti nel senso è una figata si ricarica la batteria intanto come potete notare non è che sia proprio un asso dell'elettronica credo sia stato il progetto più complicato che ho fatto in vita mia che è tutto dire però è stato carino perché ho controllato appunto l'utilizzo ho cercato di imparare un po' di più come funzionasse e ho visto che ad esempio se vivesse in Sicilia funzionerebbe perché per tutto l'anno riuscirei esattamente a generare la quantità che mi interessa e avrei anche qualcosina in più di energia che non riesco a sfruttare però purtroppo vivendo a Londra la maggior parte del tempo sono sotto soglia soprattutto nei mesi invernali e quindi nel mio caso specifico non ho potuto avere un server gopher alimentato a solare per tutto l'anno che girava su Raspberry Pi c'è anche una modalità per cui questo server lo potete far girare nella vostra rete cioè può veramente collegarsi prendere un IP dalla vostra rete io ho inventato cioè inventato ho escogitato l'idea dell'access point perché mi piaceva l'idea che la gente potesse avere con sé un proprio sito diciamo uno strumento per comunicare qualcosa ad altri e che questi altri si trovassero questi access point in giro per il mondo e potessero dire ah vediamo cosa c'è qua sopra anziché collegarsi su un sito o avere appunto una timeline che tu suggerisce contenuti semplicemente guardare nel lettere che cosa c'è a disposizione e provare a scaricarselo ovviamente appunto con tutti i problemi del caso nessuno di voi dovrebbe collegarsi a delle wifi senza password questo mi era stato suggerito appunto perché non è buona pratica è offline first perché appunto non avete bisogno di essere collegati a internet per questa cosa ho pensato a diverse applicazioni in realtà the sky is the limit la vostra fantasia è il limite alcune a cui ho pensato sono a me piaceva un sacco l'idea di fare Riddle il sito 35640 356 era di Riddle se io prendessi uno di questi cose alimentato a solare e fosse per sempre in un posto nel mondo potrei mandare gente a recuperare dati e informazioni da lì fare una specie di caccia al tesoro dislocata in vari posti oppure si potrebbero abilitare queste due modalità access point e mi collego a una rete esistente per avere dei patacchini con cui la gente va in giro e si sincronizza informazioni da una persona all'altra quindi la tua social network è la social network delle persone che frequenti che vedi in giro o che magari incroci e ti puoi scaricare dei dati che poi vedi offline la sera in un altro momento insomma vari modi di utilizzo varie cose che si possono fare mi faceva piacere condividere e in giro da un po' avrei dovuto condividere probabilmente meglio prima però ho pensato che ci voleva anche il luogo giusto e la gente giusta per parlarne prima di parlare di small AI come vedete la parte small è con un punto di domanda domande su Pico Goffer specifiche e soprattutto ditemi se devo fermarmi perché so che l'ora è tarda e se vi state addormentando e che vi coinvolga di più ma adesso ci saranno anche domande da parte mia quindi un'applicazione interessante potrebbe essere quella di MeshTastic o comunque di protocolli tipo l'ora per questa località perché secondo me come larghezza banda magari ci stiamo è un po' limitata però così ti eviti il problema del dover però ovviamente devi portarti dietro un device in più però l'idea di buttarmi una roba in zaino in MeshTastic e portarmela in giro è molto figo perché quello consuma poco davvero poco una domanda invece è se avevi per caso misurato i joule per page load sul Pico ottima domanda allora avevo fatto delle misure non mi ricordo assolutamente i dettagli però c'è un post che è take the power back credo in cui fammi vedere se è questo comunque in uno di questi post ho fatto delle misurazioni proprio calcolando a carico qua c'era un po' di conclusione sul sullo consumo totale the more we are no ok non le ritrovo al volo ma sì ho calcolato ho preso il server l'ho bombato di richieste apposta ho cercato di guardare il consumo di picco e l'ho completamente rimosso dalla mia memoria dopo averlo scritto qua dentro i dati sono lì comunque ok small AI di AI si è parlato già abbastanza la parte small è abbastanza controversa questo è il link a una pagina che mostra le aziende che si occupano di AI nel 2024 cioè quelle che sono state elencate poi sicuramente ce ne sono altre come potete vedere il panorama non è decisamente small e poi c'è un altro punto di domanda su AI non AI devo dire che prima di venire qua ho detto ma qualcuno ha già parlato di queste cose negli anni scorsi la risposta è ovviamente Davide ad esempio ha fatto local AI l'anno scorso e mi sono premurato di guardare il suo talk prima prima di tutto perché non volevo fare una copia di qualcosa che era già stato presentato e poi perché mi interessava genuinamente e vedendo questo talk ho visto alla fine il commento su AI non si dovrebbe chiamare AI queste cose eccetera e vi dirò la mia posizione su questo io ho iniziato a studiare intelligenza artificiale in un corso che si chiamava intelligenza artificiale questo perché e lo diceva il mio professore docente del corso Marco Somalvico l'intelligenza artificiale è quella scienza che si occupa di studiare sistemi hardware e software le cui performance all'occhio dell'uomo comune voi immaginate quante volte me l'ha detta per sapere la memoria sono paragonabili a quelle umane allora è molto vincolata come definizione nel senso che ogni termine è stato messo lì veramente con intenzione all'occhio dell'uomo comune dici certo perché se tu l'hai programmata ho programmato questo sistema non questa intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale è la scienza non il sistema insomma a me piaceva come definizione la materia continua a chiamarla AI il campo di ricerca lo chiamo AI o machine learning se vedo che è più specifico su tecnologie del machine learning che sono alcune delle tecnologie che fanno parte di AI come una sottobranca e i modelli che fanno certe cose io li chiamo modelli gli algoritmi li chiamo algoritmi e a proposito di questa cosa ci sono un paio di concetti che mostro a un corso che ormai una lezione di un corso che ormai tengo ogni anno a Lugano l'università dove ho fatto il postdoc e dove non sono più ma vengo invitato per fortuna ogni anno e devo spiegare AI a delle persone che non sono dei tecnologi e quindi devo cercare di trasmettere quello che io ho imparato come i concetti che per me sono i principali a delle persone che non sono tecniche e i primi due concetti che uso sono esattamente questi due qua il primo è quello del mechanical Turk e si richiama un po' una cosa che diceva il mio professore che la macchina è un luogo dentro a cui l'uomo fa delle cose e non c'è niente di più letterale che il mechanical Turk cioè il mechanical Turk era questo automa meccanico dall'aspetto di un turco che giocava a scacchi giocava a scacchi e la gente era meravigliata da questo fantastico automa che era capace di giocare a scacchi contro un essere umano e se non che dentro a questo tavolo c'era un omino piccoletto che giocava a scacchi e pilotava l'automa adesso se voi fate una piccola estensione se io sviluppo un software usando algoritmi di machine learning intelligenza artificiale che gioca a scacchi io alla fine non so nient'altro che questo metto che sta giocando semplicemente non piloto direttamente il braccio ma ho scritto l'algoritmo che giocava a scacchi e voi direte ah ma l'algoritmo impara l'algoritmo impara delle regole dei movimenti delle cose in base a come io l'ho programmato tutto sommato non ha un'iniziativa per cui prenderà delle strade che non siano quelle che ha imparato o che ha visto a partire da quello che ha sperimentato questo è il primo punto è abbastanza forte come opinione tra l'altro il mio professore secondo me era un super cattolicone per cui lui diceva l'uomo arriva al mare si ferma no era diverso sì no era così l'uomo arriva al mare si ferma e pensa all'infinito la macchina arriva al mare e si ferma e l'idea era non ha questa tendenza verso il pensare ad altro che non sia quello per cui è stata programmata a fare questa parte può essere condivisibile o meno ci sono due scuole l'intelligenza artificiale forte l'intelligenza artificiale debole non sono specificamente per una per l'altra in realtà forse un po' l'imprinting del mio professore però diciamo tutto quello che ho visto finora non mi dà molte quella che chiamo spark of intelligence scintille di intelligenza come impressione la seconda cosa il secondo concetto importante è quello della stanza cinese che è una specie di aradosso descrizione di John Searle negli anni 80 e quello che diceva era questo supponete di avere una stanza con dentro una persona che ha un vocabolario di cinese che prende delle domande fatte in cinese e le mappa esattamente con delle risposte fatte in cinese questa persona non sa il cinese ma se il vocabolario è sufficientemente completo e lui è sufficientemente bravo a usare questo vocabolario aggiungerei io per qualsiasi domanda che gli arriva in cinese lui dà la risposta giusta da fuori ci sono due cinesi che parlano nella loro lingua e dicono cazzo questa macchina sta in cinese mi capisce perché qualsiasi cosa io gli chieda lui mi risponde in un modo che mi sembra più che plausibile allora questo non vuol dire che non ci sarà mai una macchina che sarà veramente in grado di parlare cinese o di capire cioè io non dico che ce ne sarà però questa cosa non dice che non è possibile che ce ne sia una però dice che visto da fuori potrei aver semplicemente un sistema di retrieval molto buono e per me sarebbe indistinguibile rispetto a un essere umano e interpretatela come volete io ho la mia posizione su cosa sta succedendo adesso ah vai dimmi certo il modo in cui la stanza è stata approntata è diciamo dà la convinzione che il cinese sia saputo esatto 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 e questo significa anche un'altra cosa che è una conclusione a cui tanti scienziati nell'intelligenza artificiale nel campo dell'intelligenza artificiale sono arrivati che è a me non mi frega niente se questa macchina pensa oppure no intanto che ha le performance di un essere umano e io ho bisogno delle performance di un essere umano per risolvere il mio lavoro mi va bene va bene però chi decide se questa macchina ha le performance di un essere umano o no potrebbe essere la persona che ha fatto una valutazione più o meno rigorosa delle capacità di questa macchina potrebbe essere un product manager o potrebbe essere un marchettaro che sta cercando di vendere il prodotto qualcuno giusto quindi è comunque una e non sto dicendo chi è stato in questo caso particolare dell'LLM in generale perché non voglio intenzionalmente prendere una posizione specifica su questa cosa ma sto dicendo che ancora una volta in realtà la responsabilità è molto più in mano alle persone agli esseri umani che alla macchina programmata e alle scelte che loro fanno di come vengono usate queste cose parlando di programmare la macchina e di algoritmi e di machine learning qualcuno di voi sa dirmi che distribuzione è questa se qualcuno ha fatto bravissimo e sapete quali sono i parametri di questa distribuzione perfetto allora media scorto quadratico medio media varianza media standard deviation ok questa è una funzione è un modello generale che è in grado di descrivere tutte le distribuzioni gaussiane se gli date la media giusta e la varianza giusta questa fitta i dati che voi effettivamente avete come descrivereste questi punti che cosa vedete da questi punti che distribuzione hanno lineare perfetto c'è un modello che è il modello della retta anche questo dei parametri a e b se voi trovate l'a giusto e il b giusto trovate la retta che minimizza l'errore che voi fate dicendo che quella retta sta approssimando i punti che voi effettivamente avete cioè se voi avete dei punti adesso questa è non mi ricordo a e b quanti erano qui però se 0 corrisponde a 10 potrebbe essere x più 10 grosso modo perché poi non è che raddoppio cosa supponiamo che sia lineare con una a uguale a 1 vuol dire che che so io raddoppio i soldi che investo in marketing e raddoppio le vendite che ho se questa retta è buona significa che è in grado di predire il fatto che se io spendo 100 venderò 100 più 10 perché questo è y uguale x più 10 fondamentalmente dico che è più 10 solo perché per x uguale 0 la trovo qua più o meno a metà quindi mi sa che sta più o meno lì allora questi sono due modelli questi modelli vengono associati a dei parametri per trovare una soluzione a un determinato problema quello che si fa in machine learning spesso è fare la stima di una funzione cioè io prendo una serie di immagini che possono essere chihuahua o muffin alla gente piace molto questa perché ah cazzo quello lì sembra un chihuahua o viceversa quello lì sembra un muffin li do in pasto a una funzione e questa funzione mi dice è un chihuahua o è un muffin allora questa funzione in realtà non ha niente di diverso da questa funzione e da questa funzione come funziona adesso non uso i chihuahua o muffin perché è un po' più complicato immagini bianco e nero digit recognition quindi identifichiamo le cifre sono da 0 a 9 quello che io prendo è qual è la radice di 784 non lo so comunque questi pixel per questi pixel mi danno 784 pixel prendo ogni pixel in input pixel 1 lo moltiplico per un valore e lo sommo con tutti gli altri pixel moltiplicati anche loro per un certo valore e lo metto dentro questo pallino che è il pallino corrispondente allo 0 alla digit 0 quindi il valore che ottengo qua è la somma per tutti i valori da 1 a 784 dei pixel di un parametro ricordatevi la retta scusate il parametro era w di un parametro w 0 i per x i praticamente dice quanto quel pixel contribuisce a dire che quella cifra è 0 quanto quel pixel contribuisce a dire che quella cifra è 1 e così via quando voi mettete assieme tutte queste cose alla fine otterrete questo l'avrete probabilmente sentito tanto quando si parla di neural network intelligenza artificiale modelli di linguaggio eccetera ottenete delle grosse matrici che voi moltiplicate avete dati in input matrice dati in output quello che salta fuori è che imparate dei pesi questo è uno dei casi più semplici si usa proprio per insegnare queste cose ma imparate dei pesi che sono quelli che vedete qua a destra che vi dicono quanto quei pixel in particolare contribuiscono a permettervi di dire che l'immagine in input sia una delle cifre successive quindi ad esempio se io ho tanti pixel verticali in centro molto probabilmente ho un 1 se ho tanti pixel che fanno un tondo allora potrebbe essere uno 0 e così via quello che ottengo lo imparo dai miei dati cioè io gli dico guardate che io ho questa funzione qua e voglio che questa funzione mi dia un valore 1 qua in cima e tanti 0 tutte le volte che voi trovate l'immagine 0 questo è il mio training del modello di machine learning quando gli passo le immagini con 1 gli dico guarda il primo deve essere 0 devo avere un 1 qua e devo avere altri 0 addestrando la rete neurale o imparo questi pesi questi sono pesi imparati dopo un effettivo addestramento per non mi ricordo quante interazioni della rete e che mi aiutano a discriminare cose poi ci sono casi particolari interessanti dove tipo il 4 e il 9 sono un po' strani potrebbero confondersi perché il 4 lo chiudi sopra e sembra un 9 o il 5 il 6 e così via ok adesso passiamo un attimo al linguaggio che è un po' diverso però il vero punto è e qua era una cosa che ho fatto per vendetta ho provato un modello che era un modello di twitter che stava su Hugging Face dicendo prova a completare questa frase Elon Musk is a e la previsione con i vari livelli di probabilità immaginatela rispetto alle digit recognition era e fraud e pussy e racist e terrorist menace non ce n'era neanche uno buono a dirla tutta ho messo anche il mio nome che nessuno conosce il modello sicuramente no soprattutto e aveva dei termini abbastanza simili quindi probabilmente aveva imparato da testi dove la gente si riferiva male nei confronti di chiunque scusate ho traslitterato parlava male di chiunque e ok cosa possiamo fare da questo fronte possiamo fare i training di nuovi modelli enormi no non abbiamo le risorse possiamo fare fine tuning di modelli grossini sì c'è stata una bella challenge l'anno scorso si chiamava Nvidia challenge one GPU one day one LLM potrebbe essere e l'idea era vi diamo un giorno per fare fine tuning con i dati che volete di un modello esistente open source e dovete competere con gli altri e trovare il modello che funziona meglio su questi benchmark ed è stato carino perché ha mostrato che si riuscivano a fare delle robe carine carino robe carine in realtà si riusciva a vincere la challenge e a fare meglio di altri con diverse tecniche la cosa più buffa e più interessante è che nessuno di questi modelli poi è stato usato per fare effettivamente qualcosa ma era stato usato solo per competere in questa challenge e far vedere che diversi metodi riuscivano effettivamente a performare meglio sui benchmark che è quello che purtroppo succede molto molto spesso con tante LLM vedi che vanno meglio di altri magari per tantissimi casi molto generali ma non si sa esattamente all'atto pratico poi per cosa possono essere usate come capire come funzionano all'atto pratico Davide in questi giorni ha mostrato un ottimo esempio prendete diversi modelli alcuni di immagini alcuni di testo alcuni di audio li provate facendoli girare localmente e lo vedete con i vostri stessi occhi quali sono i limiti quali sono le cose che si possono fare e così via e come si fa a provarli localmente beh ancora una volta Davide vi ha mostrato diversi metodi io ho uno per il quale sono un po' biased perché l'ho visto recentemente e mi è sembrato un'alternativa interessante faccio subito il disclaimer è di Mozilla non di Mozilla AI quindi tecnicamente non l'ho fatto io e mi sento dovere di parlarne perché ha un'idea interessante dietro che è un po' il risultato di una storia Justin Tannay è la sviluppatrice di un progetto chiamato Cosmopolitan che è un compilatore poliglotta compila un sorgente C che gira su più piattaforme contemporaneamente e questa è la prima parte Georgi Gerganov spero di averlo pronunciato correttamente pubblica Whisper Cpp nel 2022 a settembre che è un'implementazione C++ del modello Whisper che prende audio e genera testo dall'audio che sente trascrizione diciamo lo faceva per poter far girare questo modello su dispositivi immobili ad esempio e renderlo molto più leggero Whisper Cpp è quello che è stato poi il cuore come principio di Lama Cpp che è molto più famoso che è il software che è stato utilizzato per trasformare diciamo rendere eseguibili modelli molto grossi con codice C compilato molto efficiente che girava sul laptop e non solo quello ma usando modelli che erano già stati ridotti quantizzati in modo da poter occupare meno memoria quindi riduci i modelli gli fai occupare meno memoria così possono girare non necessariamente su GPU gigantesche li fai girare con codice C++ ottimizzato per girare su CPU prendete questo prendete questo li mettete assieme il resto erano altre cose fatte quello che salta fuori a fine 2023 novembre è questo lama file che è un software che vi permette di avere un modello di linguaggio un LLM che gira su un singolo computer su CPU o GPU se ce l'avete ma non necessariamente con tanta RAM perché usa modelli compressi e è un singolo file si chiama lama file per quello è un singolo file sul sito web vediamo se ce l'ho aperto già probabilmente no occio ok su github.com slash mozilla dash occio slash lama file avete ad esempio una lista di modelli già pronti con dimensione per ognuno di questi il più piccolo è da 2 giga tiny lama e questo gira su raspberry pi lava è un po' più grosso 4 giga non è un granché ma è in grado anche di ricevere immagini in input è multimodale quindi potete fare domande tipo descrivi cosa c'è all'interno di queste immagini e poi ci sono altri un po' più grossi mistral 7 billion 7 billion è abbastanza cicciozzo gli si può chiedere cose aspettandosi risposte dignitose spesso e occupa nella sua versione compressa 4 giga di ram che gli permettono di girare appunto anche sul laptop normalmente la cosa interessante è che voi scaricate questo file andate sul terminale o se avete windows fate doppio clic e dite che so provo con mistral esegui questo file questo viene caricato in memoria viene aperto forse a un certo punto una pagina del browser e da lì avete un'interfaccia con cui potete immediatamente parlare e ancora single file e lo stesso file lo prendete lo mettete sul raspberry pi funziona sul raspberry pi magari non quello da 7 billion e così via domanda tipo who was Pythagoras Pythagoras allora questa è la mia cartina attorno a sole per gli LLM perché sui modelli piccoli cominciano a dirmi ah Pythagoras era un guerriero famosissimo o Pythagoras è un'agenzia viaggi di Atene e cose così allora dico magari a livello di nozioni questo modello è proprio un gran che va bene per il linguaggio e una cosa che noterete ad esempio che i modelli più piccoli spesso sono già bravi a generare linguaggio quindi l'inglese io di solito gli parlo prima in inglese che in italiano onestamente per capire come funzionano perché spesso in italiano già so che funzionano male ogni tanto e se non quelli molto grossi con quelli piccoli riuscite a avere delle risposte in inglese sensate però dicono cazzate perché il modello così piccolo impara magari a generare frasi ragionevoli ma ha meno nozioni ha meno spazio per memorizzare effettivamente cose e i modelli più grossi tendono a memorizzare di più ma nulla esclude che non memorizzano esattamente tutto quello che vi serve ad esempio per picco goffer io programmavo in micropython avevo bisogno di alcune cose che mi interessavano chiedevo a modelli tra l'altro trenati apposta per generare codice se avevano se avevano soluzioni a problemi che io avevo su micropython o dicono ah certo devi usare queste funzioni eccetera io le cercavo nella reference di micropython e non c'erano perché il modello non è stato trenato con abbastanza dati su micropython così come io gli ho fatto generare un intero sito che potevo navigare via http ma non è mai stato in grado di generare il sito goffer perché documentazione su goffer per generare pagine di siti goffer eccetera non ce n'è tante quindi lllm trenate su quello non ce ne sono cosa si può fare con l'ama file allora questo l'ho già detto tutto sì ah non ho detto una cosa justin adesso sta investendo un sacco di tempo e risorse per quasi da sola ottimizzare codice specificamente per cpu e mentre all'inizio tutte le cose che faceva le mandava su l'ama cpp adesso ci sono alcune cose che divergono quindi non sono sicuro che tutti gli update arrivino su l'ama cpp però ha deciso di spingere le cose così tanto fino ad ottenere velocizzazioni di alcune parti del codice non della performance complessiva da 30 a 500 volte più veloce anche qui è uno sforzo è una cosa small da un certo punto di vista perché magari non ci sono al momento tantissime persone che vogliono velocizzare questa cosa su cpu o su macchine piccole perché tanti pensano basta avere una gpu una macchina più grossa però mi sembra molto più democratico che dire ah ho rilasciato open source questa LLM avete bisogno di una scheda video da 5000 euro per farla girare e l'altra cosa interessante è che è compatibile come software con l'API di OpenAI quindi in teoria se state sviluppando un software che usa l'API di OpenAI potete spegnere OpenAI accendere l'AMA file così come anche OLAMA tra l'altro perché anche quello è compatibile e usarlo direttamente come alternativa questo è come funziona ve l'ho già detto questo è l'AMA filer che è un generatore di embedding l'idea è che anziché generare del testo nuovo semplicemente prende la descrizione la rappresentazione interna che il modello si fa del testo esistente e che poi usa per generare nuove parole successivamente e vi restituisce quella descrizione quella rappresentazione interna che voi potete usare per diverse applicazioni ad esempio potete fare training di un modello per la classificazione potete misurare la similarità fra dei documenti potete fare il vostro motore di ricerca il vostro recommender system ho qui un esempio veloce è un notebook ho scaricato dati dalla mia timeline di Mastodon si vede abbastanza sia un po' piccolo però così ho scaricato dati dalla timeline di Mastodon ho calcolato gli embedding con due metodi diversi il primo non usa l'ama filer il secondo si la differenza principale è che il primo prende 26 secondi e l'ama filer 3 questo è un M3 è un Mac M3 quindi se avete un Raspberry Pi probabilmente volete usare l'ama filer al post dell'altro metodo perché sarà sicuramente molto più intensa la computazione dopodiché potete fare delle query ad esempio qua c'è un post e io chiedo direttamente quali sono gli altri post della mia timeline che sono più simili a quello che io ho fornito ho preso un post a caso numero 42 e è venuta a fare una cosa che si è vagamente un messaggio probabilmente politico perché parla di hypocrisy and delusion of our leaders e dopodiché gli altri messaggi parlano tutti più o meno di politica ho fatto un esempio come I'm a supporter of the Free Software Foundation e i messaggi più simili sono testimonial from my Free Software Foundation member thank GNU Libre Planet Linux Foundation thank GNU anche lì e l'idea è che in Maston avete una timeline che non è algoritmica e potete cambiare il ranking dei vostri messaggi in locale col vostro modello senza chiedere a nessuno di generare un algoritmo per voi io ne ho fatto uno che si basa solo sul contenuto però la mia parte di Small AI è la parte dove l'utente ha il controllo delle cose che sta facendo e questo è il tipo di cose che secondo me possono essere interessanti e che le nuove generazioni potrebbero ereditare prendere e cercare di portare avanti ci sono colossi che forniscono i propri algoritmi ma c'è ancora la possibilità di far girare delle cose localmente e poter un po' personalizzare l'esperienza che si ha di internet ovviamente quando si ha un martello tutto sembra un chiodo come si dice e quando avete le AI vi sembra che tutto possa essere risolto con le AI o peggio ancora quando avete Large Language Model sembra che tutto si possa risolvere con Large Language Model in realtà ci sono tanti progetti piccoli che si possono fare qui ho alcuni esempi uno è Alt Text Generation Locale in Firefox stanno includendo questa cosa è uscito un po' tempo fa in cui fanno vedere come si può usare un modello locale non l'LM che rileva il contenuto di un'immagine fa una piccola descrizione che suggerisce di aggiungere come testo alternativo all'immagine quando la postate ad esempio su un social network e Clustering Your Ideas è un progetto un po' simile a quello che vi ho fatto vedere di Mastodon cioè Embedding per però dati salvati localmente all'interno di un note editing tool quindi avete il vostro sistema qualsiasi esso sia per raccogliere noti i vostri pensieri eccetera potete fare clustering di quello e vedere come si raggruppano le vostre idee questo progetto che non esiste ma gente che ha detto sarebbe interessante che chi non ha chi ha problemi di accessibilità e usa una barra braille per accedere al fediverso possa avere hashtag che siano scritte correttamente in camel case cioè ogni parola all'interno di questa grossa hashtag inizi con una lettera maiuscola così che i lettori di testo possano sintetizzare testo splittando propriamente l'hashtag è una stupidata io non ci avevo assolutamente pensato è ovviamente uno sforzo minimo per chi scrive l'hashtag però si potrebbe anche fare un suggeritore di hashtag propriamente cased ok alla fine l'AI o il campo di ricerca AI e i modelli di intelligenza artificiale esistevano prima dell'LLM e si usavano e si facevano tante cose interessanti e se vi interessa come campo di sviluppo ovviamente si possono usare l'LLM eccetera ma ci sono tante cose che si possono fare più piccole non meno utili e secondo me è anche questa una direzione interessante da investigare so che è super tardi quindi non vi faccio più vedere altri esempi ho un'ultima slide di conclusione sono più o meno alcuni dei pensieri principali che mi hanno colpito contenuto soprattutto evitando tutto quello che non è essenziale comunità di pratica cioè di gente che fa cose assieme a voi e che è interessata a cose simili protocolli non piattaforme protocolli ne abbiamo parlato tanto e abbiamo visto come certe cose sopravvivono le piattaforme aprono e chiudono perché dipendono un po' dagli utenti che li usano un protocollo una volta che c'è ed è stato ratificato come standard la gente lo può usare per decine e decine di anni riprendere nel tempo cambiare e così via gente persone in controllo delle cose che fanno girare essere un po' resilienti so che è un termine che è stato un po' abusato in periodo post-covid quindi al cambiamento ovviamente è una cosa difficile ma si può studiare le cose in modo che non scompaiano appena alcune delle tecnologie che ci sono adesso scompariranno e chiudo con open e free e direi che è finito tutto quanto sì grazie mille bene allora direi grazie Mala grazie a tutti